Il datamart dei flussi di cassa dà la possibilità di ottenere una proiezione dei futuri flussi monetari che si manifesteranno sui conti di tipo flusso, cioè classificati come cassa o banca. In particolare, vengono simulate le entrate e le uscite future sulla base dei dati contenuti negli archivi di Mexal, scadenziario contabile, scadenziario extracontabile e scadenze da ordine bolle. Il punto di partenza dell'elaborazione è rappresentato dai rispettivi saldi iniziali, mentre come data iniziale per la generazione dei flussi viene considerata quella di sistema. Questa analisi consentirà quindi di prevedere la dinamica delle entrate e delle uscite, evidenziando in anticipo eventuali scoperti di cassa o eccedenze di giacenza sui conti corrente. Si ricorda che dopo aver inizializzato il datamark dei flussi di cassa, prima di eseguire le TL è necessario aggiungere alla sequenza ETL i passi relativi ai flussi. Tramite il tasto delle azioni contestuali, aggiungi i passi. È possibile aggiungere i passi dei flussi di cassa per ogni azienda solamente in uno dei suoi anni gestiti e poiché il fine principale dell'analisi è quello di prevedere l'andamento dei futuri flussi di cassa tipicamente vengono aggiunti sull'ultimo anno. Vediamo ora il report d'esempio dei flussi per banca. Dalla scheda campi sono stati selezionati in area righe gli attributi conto della dimensione contoflusso, codice documento dimensione flusso, conto della dimensione conto, tipo movimento della dimensione flusso, tipo pagamento della dimensione flusso e data, mentre in area dati è stata inserita la metrica saldo. Nella scheda ordinamento e subtotali è stato poi eseguito un ordinamento ascendente per conto e per data ed è stato aggiunto un nuovo subtotale con raggruppamento per conto con aggregazione di tipo somma sulla metrica saldo. Dalla scheda espressioni è stata inserita successivamente una colonna calcolata aggiuntiva denominata saldo progressivo ottenuta con la somma parziale del saldo e tenendo conto anche dei raggruppamenti per conto. La somma progressiva viene calcolata separatamente per ciascuna modalità della variabile di raggruppamento considerata. Questo report mostra così tutti i flussi prospetici in entrata e in uscita ripartiti per contoflusso, conto marcato con la C di cassa o la B di banca nell'anagrafica di Mixal. Grazie. 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 Grazie.